Ciao, sono Crash Bandicoot e ho voglia di fare un po' di avventura. Per iniziare, scegliamo un livello. Anzi il primo x di, Toad Villag. Mi suona molto familiare, perché il nome può far sembrare a uno dei livelli di Super Mario, vabbè proseguiamo. Voi questa fantastica suoneria chiamata, Pokerface? Invia gaga al numero 466, senici, 61, scemo. Fluskxk. ma vaffanculo la pubblicità pure nei teletrasporti ma che cazzo si sono fumati gli sviluppatori e guardate c'è un pollo lasciamo stare aiuto un tizio mi vuole stuprare aiuto 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 un momento per caso quello è il famoso pollo di richard benson che ci fa qui nel medioevo vabbè lasciamolo stare tanto non ho fame splash 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 che bello camminare sull'acqua mi fa sentire gesù cristo asd che bello ora ho il doppio paracolo personale adesso non mi fermerà nessuno checkpoint dai meno male così se perdo una vita riparto da lì una cassa semaforo vita in più grazie cazzo una rana speriamo che non mi da un bacio mi ha sempre fatto schifo non è una bella cosa farsi baciare da una ranocchietta in calore dai meno male ho superato questi altri ostacoli più in avanti c'è il bonus almeno lì non ci sono nemici che ti rompono le palle xd corri 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 zompette 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 che bello distruggere le casse xd ora ho un'altra vita in più è il mio giorno me lo sento distruggiamo queste ultime casse e proseguiamo con il livello wow un'altra capra non c'è dubbio questo dovrebbero essere le capre antenate di vittorio sgarbi ciao sono una ranocchietta in calore se vieni qui andiamo a letto e ti do un bacio ma che schifo vattene non voglio fare porcate non siamo in un porno che cicciolina si scopa un cavallo ora guardate cosa faccio a queste casse che ho davanti eseguo una frog splash che mi ha insegnato rob bandam altro è ad shot non c'è che dire sono un vero figo capre ovunque ho sbagliato a fare i conti questo dovrebbe essere lo zoo di vittorio sgarbi altro che antenati altre due casse semaforo vabbè distruggiamole e finiamo il livello che bello ho racimolato una gemma o si o si su camelo lì su camelo lì si 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 oie a vabbè ragazzi il video è giunto al termine se è stato di vostro gradimento lasciate un like e se volete altri video loquendo commentate ciao e alla prossima ciao 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 ciao